Un mese leggermente più piovoso del solito, ma segnato da tre episodi notevoli. L'analisi di Arpav sul meteo di luglio conferma ciò che gli abitanti delle aree più colpite hanno sperimentato sulla loro pelle. Nel corso del mese, registra Arpav, si sono alternate brevi fasi di tempo bello e caldo ad altre di marcata instabilità, con mattinate soleggiate seguite da fenomeni temporaleschi anche di forte intensità nelle ore pomeridiane e soprattutto in quelle serali. Ed ecco che nell'ultima settimana del mese le precipitazioni abbondano. 23 luglio, intenso temporale sul Monte Cristallo e colata che da Rio Gere invade il Passo Tre Croci. 29 luglio, Auronzo subisce due scariche temporalesche ravvicinate e in un'ora cade quasi la stessa quantità di pioggia che di solito si accumula in un mese, un evento mai registrato nella storia delle misurazioni ufficiali. Infine la pioggia del 30 luglio che innesca le colate che portano alla chiusura del Pordoi e del Fedaia, il tutto al termine di un mese con temperature medie più alte di un grado rispetto alla norma.